Quattro sensazioni delle persone che bastano a se stesse, di chi è dotato di autostima, perché bisogna anche capire dove vogliamo andare. Se segui i miei video ovviamente è perché tu desideri migliorare te stesso, fare un percorso di crescita personale, certamente, poi fornirò anche altre risorse online per questo, ma fondamentalmente il fatto è che devi sapere dove andare, e lo dico spesso nei miei video, devi visualizzare dove devi andare, devi chiederti che cos'è, come farai a sapere di avercela fatta ad intraprendere con successo questo percorso di cambiamento che tu tanto desideri. Ecco, e per farlo devi sapere dove andare. Sicuramente una delle cose che desidererai raggiungere come tanti altri è una sana, robusta, forte, consistente autostima. Che cosa significa? Ecco, cerchiamo di capire quattro, quattro sensazioni, emozioni, stati, emotivi che provano le persone che hanno questa autostima. Sicuramente la prima caratteristica è quella di non provare rancore. Mi rendo conto che è una parola grossa, che significa non provare rancore? Significa che non ce l'hai più con qualcuno, perché ti ha tradito, perché ti ha ferito, sul lavoro, nella vita personale, in amicizia. Non importa più. E questo perché è cambiato il concetto di responsabilità. È molto importante. Queste due cose sono estremamente legate. Quindi, mancanza di rancore, mancanza del desiderio di vendetta. Che cosa significa? Che le basse emozioni non ti toccano più. Quanto meno ti toccano non più come prima. Ed è fondamentale. Perché avere queste emozioni dentro vuol dire produrre ormoni dello stress, vuol dire peggiorare il tuo stato emozionale, vuol dire quindi pensare peggio, stare peggio. E ritenere che questo sia anche normale, oltretutto. Invece, ad un certo punto smetti di farlo. Smetti di farlo perché hai sviluppato un particolare concetto di responsabilità. E va approfondito questo aspetto perché è importantissimo. La persona che ha acquisito veramente autostima si sente responsabile della propria vita. Quella responsabilità che viene tanto descritta nei Bildung romanzi tedeschi, cioè i romanzi di formazione fondamentalmente nord-europei, dove si descrive quella sensazione quasi di angoscia del giovane che a un certo punto realizza che il suo destino è nelle sue mani, dipende dalle sue scelte, è lui che deve vivere la sua vita e deve trovare il suo posto nella vita. Ovviamente noi non viviamo più in quella società là, che è la società dove il giovane capiva che il destino era nelle sue mani, e la giovane, la giovane donna, invece faceva il ballo delle debuttanti perché qualcuno, un buon partito, la doveva scegliere. Ecco, cioè non viviamo più in quella società lì. Ma è molto importante questo concetto ed è estremamente legato alla psicologia. Ora che mi viene in mente forse qualche riferimento non sarà esatto, perdonami. Il fatto è che quel concetto, quella sensazione del giovane che sente quella sensazione d'angoscia perché il futuro è nelle sue mani, quindi questo tremore, questa paura, le palpitazioni, l'angst, è una cosa che era ritenuta normale in quella cultura. È diventata poi l'angoscia di Freud, la nevrosi d'angoscia di Freud. È basata su quella sensazione. Ma perché? Perché si aggiunge un elemento e c'è una visione negativa del futuro. Cioè io acquisisco la percezione che il futuro dipende dalle mie mani, ma vedo solo un futuro negativo, non lo vedo positivo. Ecco, queste cose messe insieme hanno determinato poi il fatto che questa sensazione sia passata a diventare una nevrosi d'angoscia. Ecco, un aspetto molto importante ed è stata tollerata a un sederato normale per tantissimo tempo. In effetti penso, cioè a un certo punto realizzo la vita nelle mie mani, è il frutto delle mie decisioni, sono io l'artefice del mio destino. Certo, è vero, mi ha di tutto perché non tutto è sotto il mio controllo, ma questo vale, cioè è una regola che vale per tutti, quella che alcune cose sono fuori dal nostro controllo. Quindi sostanzialmente io devo giocare adesso, punto. E una volta che gioco e inizio a giocare al netto del fatto che una dose di circostanze favorevoli, chiamalo destino, fortuna, quello che vuoi, ecco, ci devono essere per avere successo, ma al netto di quello tutto il resto dipende dalle mie decisioni, sono io che scelgo. E quando tu acquisisci questa responsabilità, non è che perdoni le persone che ti fanno del male e il giorno dopo ci riesce a prendere un caffè, no, mi comporto in modo da impedirgli di farmi del male, ma dipende da me, il focus è su di me, il focus è tutto mio, sono io, e quindi sono io che decido, punto. E qui, qui la terza cosa, il concetto di confini, i confini, i confini, segna questa storia dei confini, i boonberries, tradotto in americano o in inglese, perché fra 7-8 anni quei libri sulla psicologia dei confini verranno tradotti anche in italiano, sono già best sellers negli Stati Uniti e nel mondo anglosassone, ok? Ci sono colleghe super influencer con milioni di followers che lavorano su questo. La questione è che costruire i confini è un aspetto fondamentale. La persona che ha una sana autostima mette i confini non per ferire l'altro, ma per difendere se stessa, cioè perché è un atto di rispetto verso se stesso. Questa è anche una frase di Freud, non mi ricordo la citazione esatta, ma lui diceva che chiudere con le relazioni tossiche della nostra vita, con le persone, le situazioni tossiche della nostra vita non è un atto di egoismo, ma di rispetto per se stessi, qualcosa del genere. Il fatto è che noi sicuramente abbiamo l'esigenza di definire il nostro campo d'azione e l'essere umano deve definire il suo campo d'azione da un punto di vista di che tipo? Semplicemente di tipo relazionale, perché è nel mondo delle relazioni che noi abbiamo successo. L'alternativa qual è? Fai l'eremita in cima a una montagna, in India, nel Tibet, dove vuoi, ma se scendi da quella montagna devi definirti un mondo di relazioni, sul lavoro, amicizia, partner, quello che vuoi, sono relazioni e la persona dotata di autostima sta attenta a quelle relazioni, ok? È molto importante questo concetto e mette dei confini, dei paletti sani. Molte persone credono che perdonando faccio stare meglio l'altro, no, perdonando alleggerisci te stesso, è un atto estremamente egoistico, perché alleggerisci te stesso, decidi di fare pace con quella cosa e acquisisci un dono importantissimo, il dono è tuo, è il dono della responsabilità. Ok, la vita è nelle mie mani e quindi smetto di provare rancore, smetto di avere queste basse emozioni, mi concentro su me stesso, metto dei sani confini. Questo è quello che succede. Molte persone dicono, ma se io perdono, io posso anche non portare rancore, posso anche perdonare le persone, ma poi ti metto i bastoni fra le ruote. E questo è il fatto. Tu ti aspetti che gli altri cambino. Ti dai un'importanza infinita. È un atto di narcisismo incredibile. Non è che se tu benedici con tre dita improvvisamente, le persone cambiano. Non è questo quello che succede. Le persone cambiano per scelta loro. Se tu perdoni qualcuno, non ti scordare cosa ti ha fatto e non ti scordare chi te lo ha fatto, e impara a riflettere, proprio per acquisire responsabilità, su quelle che sono le precondizioni che hanno permesso che ciò avvenisse. E lavora su quelle affinché non avvenga più, perché ti devi difendere, perché è giusto che tu ti difenda. Il fatto di non portare rancore non vuol dire che allora usciamo insieme. Io posso decidere di chiudere con una persona che semplicemente ha fatto delle cose che sono in contrasto con quelli che sono i miei valori, le mie credenze, il mio modello di mondo, quello che voglio essere nella vita. E lo percepisco di ostacolo. E quindi decido di tagliare. Cioè, non è un atto buonista quello che sto descrivendo io. È un atto di coraggio. E il coraggio è la quarta caratteristica delle persone dotate di autostima. Il coraggio. Quale coraggio? Il coraggio di dire, ok, io per crescere ho bisogno di provare alcune frustrazioni. Perché? Perché la crescita avviene tramite l'ostacolo. È lì che cresce. E funziona così per tutti. Per tutti. La questione qual è? Che tu puoi tranquillamente stare fermo e aspettare che la vita ti metta a dura prova. La vita è creativa. Stai attento. Perché sa metterti a dura prova. E prima o poi lo fa. Ecco. E quando lo fa, se tu vivi in difesa, quella situazione sarà terrificante. Se invece tu vivi pensando, ok, quali sono le frustrazioni, le difficoltà che io devo affrontare per crescere, ecco, a quel punto cambia tutta l'inquadratura. Cambiano anche i colori. Perché tu dici, ok, io mi metto in questa situazione non solo perché magari ho bisogno di portare la pagnotta a casa, ok? E è legittimo. Ma anche perché quello è ciò di cui ho bisogno. Le difficoltà che vivrò lì, le situazioni che vivrò lì, i disagi che vivrò lì, sono funzionali al modello di me stesso che io voglio raggiungere. Hai capito il concetto? Scrivi nei commenti se hai capito. Scrivi nei commenti tutto quello che credi, come suggerimenti o domande. Perché su questi temi farò molti video in futuro.